No, non penso proprio, non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere, io penso che il gruppo abbia capito questo, non possiamo permetterci nessun tipo di calo di tensione, nessun tipo di superficialità, io penso, spero, mi auguro, ma in questo senso il mio lavoro sarà importante in tutta questa settimana, di far capire alla squadra che non ci possiamo permettere nessun abbassamento di guardia. Beh, insomma, noi andiamo in casa della Juve domenica e quindi ho letto una cosa di Conte che dice che la sua squadra per grinta, determinazione e spirito è una vera provinciale, è una provinciale, allora dobbiamo prendere da lì perché anche per vincere bisogna giocare in un certo modo, bisogna avere un certo spirito, bisogna avere certi comportamenti, certi atteggiamenti e quindi questo può essere sicuramente anche un insegnamento per noi, perché se la prima della classe fa così, perché non lo devono fare le altre? Ma noi siamo sempre stati abituati ad essere così, siamo nati così, noi all'interno nostro sappiamo chi siamo, da dove veniamo, sappiamo delle nostre qualità, delle nostre virtù, delle nostre possibilità e non siamo mai mancati dal punto di vista della consapevolezza dei nostri mezzi, però lo spirito deve essere quello della provinciale.